La sesta giornata del campionato di promozione Girone A vede la castellanzese di Beppe Scandroglio impegnata sul campo della Lentatese e per questa trasferta Mister Scandroglio si affida al seguente 11 titolare con il numero 1 Pasiani, 2 Martini, 3 Castellaneta, 4 Tatani, 5 Banfi, 6 Tamai, 7 Bertola, 8 Libralon, 9 Colombo, 10 Moretta, 11 Ghizzi. Con questa formazione la castellanzese inizia la sua sesta giornata di campionato, una partita che si mette subito su un ottimo binario per la squadra neroverde che già al minuto 9 sblocca il risultato con un calcio d'angolo battuto da Ghizzi e Moretta ancora lui, sempre lui, davvero prolifico questo momento per il numero 10 della castellanzese, per l'appunto Moretta salta più in alto di tutti e con un colpo di testa prima fa baciare il palo alla palla e poi soprattutto le fa varcare la linea di porta per l'1-0 della castellanzese. A questo punto sbloccato il risultato, la partita si accende, la Lentatese come prevedibile tenta di reagire ma davvero il calcio è strano, proprio nel momento più brillante e di maggiore intensità offensiva della Lentatese che sfiora il pareggio, ma pareggio che gli viene negato da un grande intervento di Pasiani che davvero oggi si è confermato nuovamente un gran portiere, appunto nel loro momento migliore i padroni di casa incassano la seconda rete da parte dei neroverdi, questa volta è Bertola che approfitta di un'ingenuità della retroguardia della Lentatese che si fa trovare in preparata e a tu per tu con il portiere in posizione defilata sulla sinistra con un piatto destro davvero angolatissimo, batte per la seconda volta il portiere della Lentatese firmando il risultato del primo tempo sul 2-0 in favore della Castellanzese. Il secondo tempo si riapre con i padroni di casa davvero arrembanti che cercano di chiudere e spesso e volentieri ci riescono addirittura nella loro area di rigore i giocatori della Castellanzese che però resistono al prevedibile impatto e soprattutto la reazione emotiva degli avversari e ancora una volta con grande cinismo e grande forza di volontà, grande maturità soprattutto, trovano addirittura il Tris questa volta con Ghizzi che da uomo assist diventa e torna come nelle sue corde da attaccante di razza uomo gol con una bella girata, una rovesciata al volo. Ghizzi mette il risultato sul 3-0 e chiude definitivamente già dopo il primo quarto d'ora del secondo tempo questa sesta giornata di campionato. La festa però per i colori neroverdi non finisce qui perché lo stesso Ghizzi ha circa superata la metà del secondo tempo a trovare addirittura il poker per la Castellanzese superando il portiere in uscita e depositando in rete con un tocco comodo comodo il pallone per il definitivo 4-0. Quindi una bella vittoria, la seconda vittoria consecutiva in campionato per la Castellanzese, c'è da sottolineare che ai neroverdi questo non era ancora riuscito in questa stagione quindi un altro segnale importante, la terza vittoria consecutiva nel complesso se si ne conto anche della bella e vincente prestazione contro il Garbagnate di mercoledì sera in Coppa Italia per i neroverdi che in virtù di questa vittoria sul campo molto molto impegnativo della lenta tese salgono a quota 13 punti in campionato alle spalle del Busto 81 che comanda a quota 14.